Proseguiamo, arriva dalla Puglia a sette anni Denise D'Amelio, eccolo qua! Dennis, Dennis, ciao! Allora, Dennis, sei pronto? Sì? Vieni! Spero tanto che le parole della canzone che io canto arrivino nel cuore dei bambini dell'Unicef! Ma sicuramente ci arriveranno! Con questa voce così squillante! Chi l'ha scelta questa canzone, Dennis? Io! Come mai? Ti piaceva in modo particolare? Sì? Ma tu cosa vuoi fare da grande? Il cantante! Il cantante! Eh, mi pare giusto! Alle mie spalle sono pronti i ragazzi della scuola di danza modulo diretti per una coreografia di Francesca Cristofoli. Danzeranno sulle note della canzone di Dennis D'Amelio che canta Story of My Life. Grazie! 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 Grazie a tutti! modulo. Grande applauso. Grazie caro. Tutto per te. Ciao. Tieni, tieni, portalo tu.